Per me partecipare a questa iniziativa è molto importante, è gratificante soprattutto perché è un traguardo che ho raggiunto, non da solo, ma insieme alla mia professoressa di diritto d'economia politica che saluto, e avere a che fare con persone colte come il professore che ha fatto un'intera lezione sul non soffermarci su quello che sappiamo, ma ampliare le nostre conoscenze il più possibile. Sono veramente gratto e soddisfatto di aver raggiunto questo traguardo, spero il primo di tanti, sono veramente contento di essere qui ed è veramente un piacere.